Crack BPV, nessun trasferimento, la Cassazione ha respinto la richiesta di spostare da Vicenza a Trento il processo per la Banca Popolare di Vicenza. I difensori degli imputati, tra i quali l'ex presidente della banca Gianni Zonin e gli ex vice direttori Emanuele Giustini e Paolo Marin, avevano infatti avanzato questa richiesta sostenendo che nella città berica non c'era un clima sereno per affrontare il dibattimento. La Suprema Corte ha però dichiarato categoricamente inamissibile questa istanza. L'iter processuale, lasciato in stand-by, può ripartire. Prendiamo atto della decisione della Cassazione, proseguiamo nello svolgimento del processo, doverosamente il più celere possibile, nell'interesse della grande platea di persone che sono implicate. Adesso si può dare qualche tempo, si può capire come si sviluppa adesso prossimamente? Io credo che l'udienza preliminare che era stata interrotta riprenderà direi a giorni e c'è già un calendario che prevederebbe che si concluda entro questo mese. Una notizia che è stata presa in mattinata con soddisfazione dalle associazioni che seguono i tanti risparmiatori truffati dall'Istituto. Sarebbe stata veramente un'ulteriore beffa che ci fosse stato il trasferimento, anche perché avrebbe creato un principio che sarebbe assurdo, che un imputato, perché magari viene offeso, sarebbe assurdo che i processi venissero spostati per questo. In tutto questo, altra buona notizia. L'amministrazione comunale di Vicenza, su volontà del sindaco Francesco Rucco, si è costituita per la prima volta parte civile e sarà seguita dal docente universitario, l'avvocato Giovanni Caruso. Questo è un segno che traina le persone che hanno perso tutta la fiducia nelle istituzioni. Ci voleva questa decisione. Noi siamo a disposizione del Comune di Vicenza, come tutti i risparmiatori. Risparmiatori che domani, 4 ottobre, saranno a Roma. Domani c'è l'anniversario della giornata del risparmio tradito, la manifestazione che abbiamo fatto l'anno scorso contro il governo, l'ex governo. Abbiamo chiesto appuntamento a tutti i gruppi parlamentari. Sembra che saremmo ricevuti dal sottosegretario al MEF, visto il cambiamento costruttivo, le intenzioni costruttive da parte di questo governo del cambiamento, che noi ci auguriamo diventi epocale.